Donne e lavoro. Assessore, come si presenta la situazione in provincia di Arezzo? Purtroppo ormai sono diversi anni che la situazione non si presenta positiva e nonostante ogni anno cerchiamo di animarci di tanta speranza, ogni anno vediamo, come dire, peggiorare la situazione. Infatti i dati che abbiamo non sono assolutamente confortanti. Da tempo ormai la disoccupazione femminile nella provincia di Arezzo si attesta sopra il 60% rispetto appunto a quella maschile. E quindi questo ci deve far riflettere su quella che è, come dire, la crisi in generale, ma anche su quella che è la situazione della donna appunto, poiché questo ci dimostra che purtroppo è sempre la donna quella che deve pagare pegno anche, maggiore, anche in situazioni di crisi. Questo perché in fondo la donna non può accedere di fatto a determinati incarichi? Ma diciamo che la donna è quella più soggetta anche per esempio a licenziamenti, anche perché si pensa, in fondo, le donne hanno sempre qualcosa da fare anche a casa. Sappiamo che le donne hanno più difficoltà anche ad accedere ai ruoli apicali, sappiamo che le donne hanno una minor retribuzione a varità di incarico rispetto agli uomini. E purtroppo esiste, e anzi adesso si è acuito, il fenomeno delle dimissioni in bianco. Sappiamo bene, se ne parlo in questi giorni, cosa sono, cosa significa. Cioè alle donne viene fatto firmare un documento, un foglio, nel quale si dice che al momento in cui resterà incinta o dovrà anche fornire dei servizi di cura alla famiglia, potrebbe essere licenziata. Quindi la situazione è molto difficile.